Posso seguirmi Inverso? No Chissà che cazzo l'ha segnato questo posto Chissà chi l'ha segnato questo posto Non mi sembra molto battuto Stiamo parlando il tuo fiume è questo Solo che è laggiù Però visto che davanti c'è qualcosa di più Di meglio diciamo Quindi dovremmo attraversare anche questo Io l'ho deciso di fare Sì questo è tutto origano quello della pizza Eh? Tutti questi qua è origano quello che si mette sulla pizza Sì Abbastanza Tutto grazie a questo tronco Era più facile là comunque Ma dove eravamo prima guarda Sono le dietro Sei? Sì Devi trovare la nostra No No Quanto regge? Boh Sì 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 va giù va giù Quanto? Mi sono bagnato il piede Ma come faccio da andare più qui? Ah Si è piegato Quanto è qua c'è la sabbia Quanto è molto sabbiosico Comunque va lì Sì 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 Gli scogli hai visto? Vai Sì 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 dobbiamo trovare un assaggio dobbiamo andare a destra eh di qua si può andare a destra tutto un casino qua di sotto c'è il vuoto comunque c'è un metro d'acqua qui mi spiega lì guarda qua tra? si che figo tra sta profondo si chissà dov'è l'altro massaggio non butto più in là vero? qua sono stati mobili qua finisci vai giù come è? no sto andando un po' non andare lì vai giù fino alla pancia ma va fidati 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 cosa le cose? e se poi passo? no non passo perchè devo andare di là e non mi caso eh guarda che faccio il bambino scusa quella è il mio sabbio vuoi dire un po' con una voragine? ok in realtà qua c'è di meno eh però il velare tutti i mobili si si comunque ci sta benissimo sta un botto dentro sta un botto dentro vai figo è la cazzo e ora come attraversiamo? adesso c'è l'ombra la mattina c'è il sole si ma te resti qua? si io andrei anche adesso andiamo a vedere qual'è quello comunque? diciamo quello vediamo anche da giusto con il can quello secondo me o è un cane o non so ma il lupo è diverso non ricordo come sono fatto è un brazo può essere un brazo non ci non cosa vengono? sì è az vender qui sicelmente sì fai Na Si Mi puoi regalare in fondo di fuori? No, no Questo videomassaggio. E questo? Sì. Poi là eravamo prima. Ah, i fogli. Credo sia una sorgente. Perché l'acqua è più pulita. Sì. Poi. 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 Grazie. Io parlo con le parole, non per questo. Guarda che ti senti. Che qua avevi la pietra, guarda. Dove siete il trampolino ti lascio di là. código. Grazie